Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione oggi affrontiamo il concetto di acido e di base secondo la teoria di Lewis e mi preme sottolineare questo che i corsi di chimica di base cioè i corsi che stiamo svolgendo in queste video lezioni sono fondate sulla teoria di bronze dell'ori in quanto è abbastanza agevole andare a definire un acido una base in una soluzione diluita mentre andare a definire un acido o una base di Lewis comporterebbe dei problemi maggiori per cui ritengo questa lezione più come un approfondimento che non come una lezione di corso di chimica di base ok prima di andare a vedere il significato di acido e base secondo Lewis vediamo di rispolverare i concetti secondo di base e acido secondo Arrhenius e secondo Bronstedt e Lowry ok quindi Arrhenius come definiva un acido una sostanza in grado di liberare Ioni H+, quindi un acido che io ho indicato con HA quindi generico liberava in soluzione acquosa Ioni H+, la base secondo Arrhenius era in grado di liberare Ioni OH- questa reazione questo tipo di definizione presentava dei limiti in quanto sappiamo che lo Ioni H+, che è una quindi un protone a tutti gli effetti e ha un grandissimo intenso campo elettrico quindi può fortemente polarizzare altre molecole quindi questo Ioni H+, non poteva essere rimanere isolato ma doveva andare a legarsi necessariamente con qualche altra sostanza ebbene in questo caso Bronstedt e Lowry vanno a definire un sistema di acido basico in cui l'acido era quella sostanza che era in grado di liberare Ioni H+, e la base quella sostanza che era in grado di accettare lo Ioni H+, andando a generare un legame di coordinazione quindi si parla più correttamente di acido e della base coniugata di base e di acido coniugato. Ok detto questo vediamo di parlare della teoria di Lewis, questa teoria parte da un presupposto profondamente diverso rispetto alla teoria di Bronsted e dell'Ori in quanto non si parla più di protoni rilasciati in soluzione ma Lewis considera i doppietti elettronici cioè quei famosi non per di non legame e quindi Lewis definisce acida acido quella sostanza che è in grado di ricevere uno o più doppietti elettronici così come definisce base quella sostanza che è in grado di donare uno o più doppietti elettronici facciamo immediatamente un esempio considerando il trifloruro di boro che reagisce con l'ammoniaca il trifloruro di boro che ibridizza sp2 è una molecola elettron deficiente nel senso che vedete non riesce a completare lo tetto e quindi è una molecola che tende a condividere qualcosa con un'altra sostanza in questo caso con chi con l'ammoniaca l'ammoniaca vedete presenta un doppietto di non legame e quindi in questo caso cosa accade che l'azoto fornisce il doppietto al boro e quindi qual è in questo caso l'acido l'acido il trifloruro di boro in quanto in grado di ricevere il doppietto elettronico mentre l'ammoniaca funge da base di Lewis perché riesce quindi fornisce un doppietto elettronico e quindi parliamo di acido di Lewis e di base di Lewis tutto questo chiaramente in equilibri chimici bene adesso vediamo un attimino se riusciamo se siamo in grado di fare un parallelo tra acido e base di Bronsted e Lori rispetto a quella di Lewis e cioè se ci possono essere delle coincidenze vediamo di considerare una base di Bronsted la base di Bronsted per esempio è l'ammoniaca la quale è in grado che cosa di poter ricevere uno Ion H+. In questo caso vedete cosa accade che l'azoto dona il doppietto elettronico all'idrogeno e quindi funge da base nella teoria di Lewis ma è anche una base di Bronsted e quindi le basi di Bronsted in questo caso corrispondono con le basi di Lewis. Più difficile risulta invece il discorso relativo agli acidi di Bronsted in quanto sappiamo che gli acidi di Bronsted per esempio H2SO4 HNO3 sono sostanze che sature e quindi non riescono a determinare legami di coordinazione e quindi a prima chitto non possono essere considerati acidi di Lewis però se noi consideriamo che il protone che viene liberato dall'acido in questo caso è in grado di poter ricevere dei doppietti elettronici possiamo far rientrare indirettamente gli acidi di Bronsted con gli acidi di Lewis. Infatti Lewis definì acidi secondari quegli acidi proprio di Bronsted e Lori per intenderci che erano in grado di liberare più ioni 1 più ioni H+, mentre definì acidi primari quelle sostanze che erano in grado di poter ricevere uno o più doppietti elettronici. Ricordiamoci sempre che in questo tipo di teoria di Lewis parliamo sempre di legami di coordinazione che si vengono a generare. Bene io ho terminato la lezione ripeto la vedo più come una lezione di approfondimento in quanto anche noi a scuola quando andiamo a spiegare le tre teorie ci soffermiamo semplicemente sulla teoria di Lewis come definizione e poiché è molto difficile applicare questa teoria nei concetti dello studio della chimica di base la consideriamo più come consideriamo questo argomento più come un approfondimento vero e proprio. Bene io vi saluto spero di essere stato chiaro nella spiegazione iscrivetevi al mio canale schiacciate un like alla prossima schiacciate un like alla prossima